ok ok 3 a 0 il primo tempo bellissimo dai attenzione attenzione finisce con il brivido questo primo tempo ok perfetto perfetto vediamo devo solo saltarlo ma facile in questo modo ci provo è impossibile è impossibile mamma mia mamma mia ma perché un cross quando è così un cross non fa male vabbè ho capito devo saltarlo io e non ci riesco mamma mia mamma mia si bellissimo così tanto lo salto e invece no ci provo niente da fare niente ancora niente mamma mia niente da fare non riesco quasi a saltare nessuno io non riesco a capire il motivo vediamo se riesco a saltarne almeno uno dei tre niente niente impossibile è impossibile vai vai avanza e me la passa a me di nuovo e me la passa a me di nuovo ma che cazzo io richiedo la sostituzione basta mi sono stancato adesso niente ve l'ho sostituito perché ho richiesto la sostituzione tanto questa partita ormai è vinta infatti 3 a 0 questa è la classifica siamo al primo posto con 44 punti più 5 dal Feyenoord perché l'Ajax la Z a quanto ho capito ha perso di nuovo quindi raga abbiamo 13 vittorie 5 pareggi e una sola sconfitta quella di oggi inguardabile proprio incredibile la sconfitta che abbiamo fatto la partita scorsa niente raga tra l'altro contro il Vitesse guardate in che posizioni si trova raga settimo posto proprio in basso nella classifica magari avremmo perso contro Feyenoord dove a Z o PSV almeno dai ci stavano contro il Vitesse raga che ha 8 sconfitte mamma mia partita contro Sparta in era divisi vediamo di vincere questa partita vediamo se riusciamo a vincere questa partita contro questa squadra direi anche abbastanza scarsa rispetto a noi rimaniamo al centrocampo però abbiamo l'occasione per poter avanzare tengo la palla in un modo incredibile potevo saltarli tutte e due peccato peccato cominciamo bene però attenzione allo Sparta qua che continuano ad attaccare cominciano ad attaccare anche loro non ci arriverà mai infatti attenzione recupera dammela ok vediamo se riesco a tirare me l'ha presa no peccato è una bella l'azione attenzione attenzione perché posso saltarlo posso saltarla invece no non ci riesco di nuovo non ci riesco di nuovo devo concentrarmi di più in questa partita perché è importantissima dai prendila bellissima vediamo che questa è buona dai questa è buona dai se riesco a correre devo superarlo l'ho visto ci prova e la para no che cazzo fai mamma mia attenzione perché recupero la palla glielo vedo passala 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 vai 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 cross e mezzo ci posso provare di testa troppo debole però stiamo attaccando questa è una cosa super positiva passamela che vediamo se riesco a saltarli dai passamela perché sono praticamente al centro da solo invece no è fuori gioco mi sa mamma mia ho visto dopo che era fuori gioco dai che è nostra la palla così bellissima dai cazzo mi ho buttato per terra recuperiamo la palla dai per favore ok lo salto ok lo salto attenzione attenzione perché adesso posso saltare anche questo così da centrarmi e provare il tiro me la para mamma mia non è possibile se rimaniamo in difesa cazzo non facciamo niente dobbiamo attaccare dobbiamo ok finalmente si è liberato al centro no eh passamela che ci sono ci provo e vaffanculo tu ci ti metti sto difensore del cazzo finisce così il primo tempo 0 a 0 incredibile incredibile perché dobbiamo vincere vediamo se in questo secondo tempo riusciamo a bucargli la difesa finora quasi impossibile passare da lì attenzione perché ci provano anche ad attaccare però fuori gioco per fortuna prendila dai era facilissimo prendere quella palla vediamo se riesco a saltarlo in qualche modo sono costretto a tornare indietro però è la mia occasione adesso è la mia occasione mamma mia mamma mia non è possibile non è possibile cazzo ogni volta che ci provo ribattuta sempre oppure parata non è possibile una partita proprio noiosa noiosissima mamma mia pure questi passaggi fate lo salto lo salto attenzione perché questa è buona questa è buona questa è buona no 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 come cazzo come succedono queste cose come vediamo se riesco a superarvi questa volta sembra quasi impossibile sembra una cosa impossibile ancora ancora deviazione e finalmente 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 reta anche se non l'ho fatta io però vabbè mi accontento lo stesso dai recuperiamo ancora dai dai che questa volta è buona per me dai che questa volta è buona per me ci posso provare questa volta rette e la chiudo finalmente l'ho dovevo fare per forza il gol non poteva continuare in questo modo dai assurdo recupero palla recupero palla vediamo se c'è qualcuno magari faccio anche assist invece sto cazzo posso fare vediamo se me ne vado sulla fascia devo saltarlo ad ogni costo ci provo con un cross in mezzo invece niente da fare perché nessuno ci arriva buon recupero guardami ok ok vediamo se riesco a fare un mezzo cross niente da fare che cazzo delle cose io non le proprio non le tollero queste cose qua questi errori di cazzo proprio attenzione perché sono morti sono morti attenzione mamma mia la difesa se me la vuoi crossare così io te la ripasso vai questi passaggi cazzo mamma mia ancora non si perdono queste cose qua non se le perdono devono farle per forza vediamo se riesco a saltarlo erano due erano due vabbè l'importante è aver vinto la partita questo mi interessa a me finisce questa partita finalmente di misura 2-0 non mi sembra proprio una vittoria così di misura però se dicono così ci prendiamo la vittoria di misura che ti devo dire attenzione perché c'è di nuovo il PSV il PSV raga in ere divisi una partita che abbiamo pareggiato ora ce l'abbiamo di nuovo attenzione perché questa partita mi ricordo che non si passava in nessun modo non si passava in nessun modo con questa squadra mamma mia cominciamo così proprio attenzione perché possiamo attaccare mamma mia e poi tra l'altro tutto in penombra uno stadio così brutto potevamo avere noi assurdo che poi è le due di pomeriggio grazie